ciao a tutti oggi apriremo il gioco del play do matto il gioco del barattolo matto allora l'età è 4 più i giocatori 2 3 quindi noi siamo 1 2 3 e ci siamo per il montaggio è necessario l'intervento di un adulto ci manca papà allora fai centro nel barattolo mentre gira come un matto davvero ed è l'asbro tra i vasetti inclusi e ci vogliono le batterie batterie non incluse funziona con una batteria ok allora adesso guardiamo un attimo la scatola cosa ci dice allora scopri tutto il divertimento dei giochi in scatola di play do con un mondo dove potrai far correre la fantasia grazie alla morbida pasta modellante più famosa del mondo giochi in scatola play do dove andare oltre le regole il contenuto della scatola è 3 vasetti di pasta da modellare della play do un mister arancione il barattolo matto un coperchio del barattolo due braccia di mister arancione una base del gioco 3 catapulte un foglio di istruzioni ok ok che carino che bello questo gioco allora prima prima di vista stampa dice si prima dice stampa poi tira e centro avviso per i genitori contiene frumento nooo ho capito allora vediamo cosa c'è dentro c'è questo con le formine dei pesciolini dei maffini aggiungo un fiore poi ci sono altri altre formine e poi quando si schiaccia questo il sante poi c'è questo penso dove vada il barattolino e poi ci sono le file di mercere questo il barattolino poi c'è un'altra pedana con le formine diverse poi l'altro poi le braccine le braccine da comporre ma che strano sono uguali lo so sbagliato io a metterle una base gioco 3 vasetti ok ci siamo poi per il braccio qualsiasi va bene allora attaccate il barattolo di mister arancione inserite il braccio con una tacca in più sul lato sinistro allora qui dice con una tacca in più voi vedete una tacca in più io non la vedo mi sa che hanno è stato sbagliato perché con una tacca in più non c'è qui fa vedere ecco fa vedere che sono diversi le braccine le braccine sono diverse i pirulini uno a due noi abbiamo tutte e due così abbiamo trovato il gioco difettoso ma noi non ci spaventiamo e glielo infizziamo lo stesso non va bene no no proprio vabbè diciamolo così poi c'è da mettere la pedana con i tre giochi tre con le tre con le tre con le tre catapulte ah ce n'è un'altra qui che è verde con gli stampini sempre diversi dall'altro ecco qua ecco qui e poi dice che ci sono tre vasetti e poi mettiamo mister ah dobbiamo mettere anche le pile prima dobbiamo mettere le pile ok prima dobbiamo mettere le pile abbiamo messo le pile nel barattolino adesso apriamo il pongo in dotazione allora c'è il pongo viola che è per la parte blu per questo poi c'è il pongo verde che è per quest'altro e poi c'è il pongo rosso che è per quest'altro allora accendiamo il nostro barattolo pazzo no si chiama barattolo pazzo? si ok allora il verde mamma io scelgo il mio rosso tu scelgo il rosso verde Manuel devi fare le formine che bello devi fare le formine mamma poi la devi mettere qui sulla catapulta guarda schiacciamo catapulta guarda che bello che ti fa tutto il vai anche io ecco bisogna applicare un po' di forza Manuel dai magari vai ho fatto il canestro mamma dentro ma fai una pallina ecco bravo mettilo dentro qui guarda amore devi mettere un pezzo un po' grande perché sennò la pallina non esce guarda mamma guarda poi schiacci qua ed ecco la pallina hai capito? e poi la metti qui la pallina e schiacci questo pulsante quando passa quando passa vedi il barattolo verso di te lo schiacci che sfortuna che sfortuna mamma ha sparato il pezzo bravo mamma dai ecco qui il mio è il viola vediamo un po' io voglio fare una bella farfallina lì c'è anche il bel granchio è fallo dai la mettiamo qui su palla di gelato qui su ecco qui fa i contorni della farfallina e poi nooo allora salutiamo tutti ciao 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 noi continuiamo il nostro gioco ciao ciao e al prossimo video